Dopo un anno di assenza forzata dalla pandemia, torna domani la fiera di San Nicola con il lungomare pesarese che si prepara ad accogliere 450 ambulanti per tre giornate e tre serate. È una ripartenza a ritmo ridotto dopo i quasi 700 stand che affollarono l'edizione 2019. I primi espositori hanno già cominciato a prendere possesso di piazzale d'annunzio dove la sosta ha cominciato ad essere vietata dalla serata di martedì. Così come Viale Trieste e Via Perpedicolare sono disseminate di divieti di transito e sosta con rimozioni forzate a partire dalle ore 20 del giovedì sera. A distanza di un mese da Candele sotto le stelle, la fiera di San Nicola sarà il secondo evento aperto in cui è richiesto l'obbligo di Green Pass per i fruitori degli stand. Ci saranno infatti controlli a campione di steward e forze dell'ordine nei varchi predisposti in un lavoro in sinergia fra Comune e Pesaro Parcheggi. Il controllo sarà a campione, lo sarà sia nei varchi di accesso che all'interno della fiera. Ovviamente chi abita nelle civili abitazioni e chi va al mare deve rispettare la legge dove lo richiama anche l'uso della mascherina. All'interno invece della fiera l'uso della mascherina e il Green Pass ovviamente sono obbligatori. Fiera di San Nicola dal 10 al 12 settembre con le date del tradizionale evento di chiusura dell'estate pesarese che concidono curiosamente con le stesse date del brodetto fest che segna l'estate fanese nel solco del suo piatto tipico. Una diciannovesima edizione del festival che sarà inaugurata venerdì alle 18.30 al palco Cavea del Lido dando il via ad una appassionata tre giorni di gusto, approfondimenti e cooking show con grandi chef e giornalisti. Anche quest'anno avremo diversi chef stellati presenti al Palavrodetto, un momento di cultura perché ci saranno delle presentazioni di libri del mondo della gastronomia, il primo fra tutti il momento di punta sarà quello con Marino Bartoletti, giornalista che tutti conosciamo e apprezziamo e sarà a Lido di Fano il primo giorno a presentare un suo libro. Il giorno successivo ci sarà Roberta Capua, anche in questo caso personaggio molto conosciuto. Il 10-12 settembre è anche il weekend di Disco Diva che per il settimo anno accenderà i riflettori su piazza Valbruna di Gabicemonte nel segno della Disco Music. Inaugurazione prevista con dei tagli a New Wave, il format di esclusiva per la prima volta insieme a Disco Diva Shared by Gucci. Al centro delle esibizioni live delle serate di sabato e domenica le performance di Kid Creole dei Coconuts e di Smoma, un festival gestito dal coordinamento di Cristina Tassinari che concilierà spettacolo e sicurezza. Il tema di norme di sicurezza, ci saranno la garanzia di tutte le norme di sicurezza, quindi accesso limitato, avremo soltanto 200 posti in platea a sedere per ogni serata, l'accesso sarà possibile solo con Green Pass e quindi tutto si svolgerà come tutte le manifestazioni che abbiamo fatto quest'estate nel rispetto massimo delle norme Covid. Saranno tre serate importanti, 10, 11 e 12 di settembre, per questa settima edizione di Disco Diva.